La A18 si conferma l'autostrada della morte. Un nuovo incidente si è verificato lungo la Messina Catania, poco dopo il casello di Giarra. Ieri mattina un settantenne, Paolo Scuderi, di Acicatena, è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso e all'ospedale di Acireale. Due le auto coinvolte, una Fiat 600, su cui viaggiava la vittima in compagnia della moglie e di tre nipoti, e una Fiat Multipla con a bordo un uomo di 60 anni. Indagini sono in corso da parte degli agenti e la polizia stradale di Giardini Naxos. Ancora da chiarire, infatti, la dinamica dello scontro. A prestare i primi soccorsi sono stati gli automobilisti che hanno assistito impotenti allo scontro. L'elisoccorso ha trasportato uno dei feriti all'ospedale Canizzaro di Catania, dove sono poi arrivate anche due bambini di 4 e 6 anni, fratello e sorella. Il più grave è il maschietto, che ha riportato la frattura del bacino e un trauma toracico. È stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza e si trova adesso in rianimazione con prognosi riservata, mentre la bambina è stata trattenuta in osservazione breve prima di essere ricoverata in reparto. Traffico congestionato fino alle 15 di ieri pomeriggio. Il nuovo incidente conferma l'impraticabilità dell'autostrada e alle famiglie delle vittime. Poco non importa dei proclami e degli annunci di imminenti lavori per mettere in sicurezza le nostre autostrade. Chi ogni giorno viaggia sulla 18 non si sente sicuro. È una roulette russa.